La sua vita, la nostra vita e quindi anche un po' venire qua, mettersi sotto a questo dal rubo, guardare il mare e un po' ricordare Francesco. Grazie, grazie a tutti. Io volevo dire che mi piace molto questa cosa dell'albero perché Francesco è una persona che aveva i piedi per terra e di meglio, sai, l'albero è proprio... era un anzinimo e quindi era contenta che insomma sia questa similitudine con l'albero. E mi viene da pensare all'entusiasmo cresciuto per strada, quasi un dovere giocarsi tutto in un colpo solo e mi sentivo tanto geniale come un'idea che non puoi fermare. E mi viene da pensare a quante volte ho scritto canzoni con la mano piena di rabbia e di convinzioni. che l'impossibile era normale come un'idea che non puoi cambiare. che mi viene da pensare a questo vento di primavera. Piore selvaggio che cresce fra i sassi è come un'idea che non puoi fermare. Forse un'idea che nascerà e forse un'idea cresce mai. ma la primavera è invesora... grazie 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 grazie